benvenuti in questo nuovo video news allora partiamo subito con le news di questa settimana allora come prima news è che è uscito pokemon pass che per usarlo bisognerà utilizzare dei QR code e questa applicazione qua è un gioco per telefono ovviamente però non è ancora arrivata in italia altra news dopo l'uscita del primo trailer sonic ha già subito delle critiche mi spiace davvero tanto perché è un film nuovo merita adesso sonic è un personaggio bellissimo e dopo il primo trailer questi produttori di questo film hanno già subito critiche in più ha espresso il suo giudizio riguardo film sonic anche il registro del film pokemon dettagli pikachu cioè di dettagli pikachu espresso il suo parere e il suo giudizio sulle film sonic altra news questo tavolo qua continua a spegnersi altra news allora gesto farà il 20 per cento di sconto su chi acquisterà pokemon let's go pikachu o ivy a tutti coloro che andranno a vedere il film pokemon dettagli pikachu mostrando il biglietto di essere stato presente il film scusate vado vado e si deve essere un bellissimo gioco adesso stiamo facendo dei giochi anche per smartphone quindi deve essere molto interessante la cosa anche se dobbiamo aspettare fino a marzo se non mi sbaglio il 20 marzo qualcosa del genere comunque una prima del prossimo anno e ultima news che ci tengo a dirvi è che dettagli pikachu ha veramente sbancato perché è arrivato al primo posto nelle sale cinematografiche è arrivato al primo posto battendo anche gli avengers che sono arrivato al secondo posto quindi è stato veramente a bomba questo nuovo film penso che siamo contenti ci è dato arrivato primo benissimo mi fa piacere io non si sono andato purtroppo però ho saputo che è stato bello a meno chi me l'ha letta l'ha piaciuto poi se è stato visto da così tante persone vuol dire che comunque si ameritavano ma già si sapeva che meritava e niente se il video è piaciuto e ci fate la version a tutti i tre che sono usciti le pet di pikachu le trovate sul canale usciranno anche quella di sonic spoiler e niente noi ci vediamo in un prossimo video grazie 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 per la visione!